Cresce il numero degli utenti che bustano alle porte del centro di salute mentale, un trend che è stato riscontrato nell'intera provincia dell'Aquila, area Peligno-Sangrina compresa. Gli ultimi dati aggiornati che arrivano dalla struttura sanitaria di Viale Mazzini parlano di circa 1.200 utenti transitati e presi in carico, 850 in Valle Peligni a 350 in Alto Sangro. Salgono i numeri se si considera il totale delle prestazioni erogate dai medici, dagli operatori del centro nell'area Peligni. Sono stati effettuati 7.000 esami, mentre in quella sangrina 5.000. Ma più che sui numeri il centro di salute mentale lavora per e con le persone. Per questo nei giorni scorsi la struttura si è aperta alla popolazione, con un'intera giornata di incontri, riflessioni e dibattiti. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci alla popolazione per far conoscere il nostro servizio con le varie figure coinvolte agli interventi preposti, il tutto per ridurre lo stigma nei confronti dei disturbi mentali e rimarcano dal centro di Viale Mazzini. E' questo il messaggio che è passato l'altro giorno quando gli operatori sono trovati faccia a faccia con gli studenti e la popolazione. In una comunità che associa ancora la richiesta di aiuto come atto di debolezza, la giornata sulla salute mentale ribalta tale approccio culturale. Pressoché nullo perché chiedere aiuto è il primo atto di consapevolezza. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!